Vivaldi, grazie a voi, grazie a voi. Dall'opera La Griselda, l'aria agitata da due venti. 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 3 minuti in mar turbato e un occhiero spaventato, spaventato, già se aspettavano le mie... 3 minuti in marito, spaventato, 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 spaventato... 3 minuti in marito, spaventato, spaventato, compasto, spaventato... 4 minuti in marito, spaventato, spaventato, spaventato... e comincia a disperare a disperare, a disperare a disperare, a disperare a disperare, a disperare a disperare, a disperare A presto A presto A presto A presto